Aggressioni fisiche, continue minacce, soprafazioni psicologiche sono le violenze subite da tre donne che hanno deciso di rivolgersi agli agenti del commissariato di Fano diretto dal dirigente Stefano Seretti. Da tempo infatti subivano questi atti che avevano provocato in loro uno stato d'ansia per la propria incolumità e per quella dei familiari, così forte da indurle a cambiare radicalmente le abitudini di vita e a contattare la polizia di Stato. Un'istituzione che pone da sempre particolare attenzione al fenomeno della violenza di genere con un grande impegno di prevenzione e di repressione. In tale contesto il commissariato ha avviato di recente la procedura del codice rosso e in tre casi sono stati denunciati due uomini e una donna residenti a Fano. Il primo è ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti verso i familiari e di atti persecutori e danni dell'ex convivente. La donna da circa due anni subiva con il figlio minore avuto da un'altra relazione le vestazioni fisiche e psicologiche da parte dell'indagato che spinto da un irrefrenabile sentimento di gelosia ne controllava in modo asfissiante sia gli spostamenti che l'uso dei dispositivi telematici per poi reagire con minacce, privazioni e aggressioni rivolte anche verso il ragazzo. Sulla base delle indagini effettuate dall'ufficio anticrimine che si avvale di un'unità specializzata per le violenze di genere, il Tribunale ha emesso nei confronti dell'uomo la misura cautelare dell'allontanamento e del divieto di avvicinamento alle due vittime ma nonostante il provvedimento ha continuato a seguire la ex anche appostandosi nelle vicinanze del luogo di lavoro. A seguito delle ulteriori attività investigative l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari ed è stato condannato dal Tribunale di Pesora a due anni e sei mesi di reclusione. Per questo, su ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica, gli agenti del commissariato lo hanno portato nel carcere di Villa Fastigi. Nel secondo caso, invece, un'anziana fanese è stata aggredita brutalmente in piena notte dal figlio ubriaco che viveva con lei. La donna, nonostante stesse dormendo, è riuscita a reagire con la forza della disperazione, sfuggendo all'aggressione e rifugiandosi da un vicino. La pattuglia del commissariato, giunta tempestivamente sul posto, ha sorpreso e bloccato l'uomo mentre tentava di accedere all'appartamento del vicino. La madre, ferita e gravemente scossa, è stata soccorsa dai sanitari del pronto soccorso e poi accompagnata in una struttura di accoglienza sicura. L'autorità giudiziaria, invece, ha emesso un'ordinanza di allontanamento dall'uomo dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla vittima. Nel terzo caso, infine, un'anziana in preda alla disperazione ha richiesto l'intervento dei poliziotti, segnalando di essere stata aggredita fisicamente dalla nipote tossico dipendente. E' emerso che quest'ultima, forse in preda a una crisi di assinenza, dopo aver invitato la nonna ad un appartamento in una zona periferica di Fano, l'aveva aggredita tentando di strapparle la borsa. Ma grazie all'intervento di un passante si è data la fuga. Le indagini hanno permesso di far luce sull'episodio e di far emergere la condizione di pesante soggezione dell'anziana, che da diversi mesi veniva intimorita dalla nipote anche con minacce diretta al nonno, gravemente malato. La donna, inoltre, era costretta a consegnare alla giovane circa 200 euro al mese. La ragazza è stata quindi denunciata all'autorità giudiziaria per i reati di tentata rapina e di estorsione continuata, con conseguente emanazione nei suoi confronti della misura del divieto di avvicinamento alla nonna.